L'ultima ricetta facile fare se si è ben organizzati è cozze con sedano e peperoncino. Preparate le verdure. Tagliate i cipollotti, lo scalogno, uno spicchio d'aglio e un peperoncino. Aggiungete un gambo di sedano affettato, una foglia d'alloro e dei rametti di timo. Mettete l'olio in una padella. Condite. Aggiungete le cozze e mescolate. Io adoro le cozze. Sono economiche, sane e deliziose. Coprite e cuocete per due minuti. Appena le cozze si schiudono, aggiungete il vermouth, un vino aromatizzato. E' 150 ml di vino bianco secco. Cuocendo a fiamma viva si forma una deliziosa salsa. E si aprono anche le ultime cozze. Aggiungete la creme fraiche e un po' di prezzemolo. Questo piatto si prepara in meno di 10 minuti. Cozze con sedano e peperoncino. Una ricetta economica e super veloce. Ilha anche un po' di prezemolo szaio.